E qui, guardalo. Ma è solo un bambino. Homo habilis, il primo a costruire strumenti. Questo è un accordo di soldi. Impara, assimila tutto, fa progressi ogni giorno. Vale più un giocatore che fa grande la squadra di chi gioca per sé. Abbiamo sempre guardato le stelle. Osservando il cielo, vedi il principio del tempo. Raccogliere i dati è un passo verso la saggezza. Ma condividerli fa nascere una comunità. La teoria del caos è tutto una questione di tempi. Poesia, aeronautica, idraulica. Ciò che impara lui lo impariamo noi. Quello che sa è un bene per tutti. Presto, meglio, risparmiando. Segui l'istinto, non rinunciare. Ha un nome? Si chiama Linux. Perchè, la teoria del caos. La teoria del caos è tutto un po'